Qualcuno una volta disse che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Ebbene, la stessa cosa è evidente, a mio avviso, che deve capitare anche alla mamma dei truffatori. Che cosa è successo? Che negli ultimi dieci giorni mi sono già arrivati due pc che sono stati portati da due utenti completamente diversi che non si conoscono tra loro e che presentavano un qualcosa di davvero molto ma molto strano. Entrambi i pc erano stati acquistati tempo prima sul web e avevano dato una serie di problemi di performance che erano apparentemente inspiegabili dato che entrambi i pc avevano delle caratteristiche hardware davvero favolose e detto tra noi erano anche stati pagati di conseguenza. Ebbene nel momento in cui sono andato a cercare le cause di queste performance ho scoperto un qualcosa di davvero ma davvero strano e allora andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta soprattutto per evitare che la stessa cosa possa succedere anche a te. E allora se ti senti pronto iniziamo. Quella che sto per mostrarti è una simulazione ma semplicemente perché non ho voluto utilizzare i pc dei miei clienti per ovvi motivi. Facciamo solo un piccolo passo indietro però. I miei clienti sono due. Il primo è un giovane gamer che ha acquistato un pc fisso su amazon pagandolo la bellezza di 2000 euro perché gli serviva un top di gamma. Il secondo è un professionista che ha acquistato su un sito dell'usato subito.it un pc usato ma praticamente nuovo ancora quasi imballato che ha pagato ben 1500 euro perché anche lui voleva un pc estremamente performante. Entrambi anche in vista del fatto che a breve sarà disponibile la nuova versione di Windows 11 24 h2 e quindi volevano essere sicuri che non ci sarebbero stati problemi nel momento in cui avessero dovuto fare l'aggiornamento. Ebbene il gamer si è accorto immediatamente appena ha lanciato un gioco molto ma molto pesante in questo caso cyberpunk 2077 che c'era qualcosa sul suo computer che non andava. Ma anche il professionista si è accorto che alcuni programmi che avrebbero dovuto girare come dei fulmini giravano in realtà molto a rilento e che l'uso del processore in particolare saliva fino alle stelle. Una volta che mi hanno portato questi due computer io ho potuto riscontrare che le caratteristiche hardware erano all'apparenza assolutamente conformi a ciò che avevano acquistato ma che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Anche nel momento in cui ho aperto i pc pur se non li ho smontati letteralmente pezzo pezzo all'apparenza era tutto in regola. E allora andiamo a vedere esattamente che cosa è successo. Tanto per cominciare chiariamo che i due pc che sto per mostrarti te li faccio vedere solo a livello di esempio e non sto dicendo assolutamente che siano dei pc taroccati. Anzi molto probabilmente se ti piacciono li puoi acquistare tranquillamente. ma quello che ci interessa guardare sono le caratteristiche hardware e le modalità di acquisto. Il primo pc era un notebook asus con un processore intel core i9 acquistato usato ma come nuovo la confezione era stata solo aperta a detta del proprietario ed è stato pagato attorno ai 1500 euro. Il secondo computer invece era un pc fisso dalle caratteristiche gaming ed anch'esso conteneva al suo interno un processore i9 14900k e quindi era sempre un i9 di quattordicesima generazione. Il costo di acquisto era un po' superiore come in questo caso ai 2000 euro. Normalmente quando abbiamo un pc tra le mani e vogliamo conoscerne le caratteristiche le cose che possiamo fare sono sostanzialmente due. La prima è andare ad aprire un esplora file qualsiasi, cliccare con il pulsante destro sulla voce questo pc e scegliere successivamente la voce proprietà e in questo caso ci accorgiamo che il processore all'interno di questo computer ci viene comunicato che è un i9 14900k e quindi appunto di quattordicesima generazione. La seconda e forse più semplice cosa che possiamo fare è premere la combinazione di tasti ctrl shift e desc e nella finestra della gestione attività portarci qui sulla scheda prestazioni. Anche in questo caso vediamo che il processore sembra proprio essere un intel i9 14900k di quattordicesima generazione. A nulla inoltre servirebbe andare ad aprire il computer a meno che non siamo disposti a smontare la ventola che normalmente è montata proprio sulla cpu e ne occlude completamente la visuale. Tutto questo senza considerare il fatto che andare ad aprire un computer che magari si trova ancora in garanzia può andare a invalidare la stessa. A questo punto tuttavia visto che in entrambi i casi dal punto di vista software era tutto perfettamente configurato e che il resto delle periferiche hardware erano visibili e assolutamente conformi a quello che era stato acquistato l'unica possibilità era che ci fosse qualche cosa a livello di processore che non era esattamente come avrebbe dovuto essere. Ma come fare a verificarlo senza andare ad inficiare la garanzia dei computer? Ebbene per nostra fortuna ancora una volta ci viene in soccorso il nostro amico Windows Repair Toolbox di cui ti ho parlato in un video precedente che per tua comodità ti lascio qui in alto in descrizione e che ti conviene sempre avere su un pendrive per ogni evenienza come ho detto nel video stesso. Se andiamo infatti ad aprire questo programma e lo lanciamo questo ci fornirà una serie di informazioni preziosissime anche relative all'hardware del nostro computer. In questo caso se andiamo a lanciare CPU-Z ovvero il programma che si occupa proprio di analizzare la nostra CPU andiamo incontro ad una sorpresa non esattamente gradevole. Infatti quello che ci dice il nostro CPU-Z è che il computer dispone di un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione diversamente da quello che è stato fatto credere a Windows che interpellato in merito come abbiamo già visto ci dice che si tratta di un processore di quattordicesima generazione e che è un i9. Purtroppo si tratta di un trucco estremamente semplice e alla portata praticamente di chiunque ma come vedi altrettanto difficile da scoprire se non si sa esattamente che cosa andare a cercare. Basta infatti andare a modificare una chiave di registro di Windows stesso facendogli credere che il processore che ha montato all'interno del computer è un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che dovrebbe essere. Per fortuna in entrambi i casi i computer erano stati acquistati solo una manciata di giorni prima e i processori usati da questi truffatori da quattro soldi erano talmente inferiori come prestazioni a quello che avrebbero dovuto essere che i due proprietari si sono accorti immediatamente che c'era qualcosa che non andava. C'è da dire che entrambi i siti sono stati estremamente seri nel restituire i soldi ai legittimi proprietari e nel bandire a vita entrambi i venditori fraudolenti. Perciò il consiglio definitivo quando acquisti un nuovo computer è semplicemente quello di utilizzare sempre e in ogni caso immediatamente come primissima cosa un software esterno come quello che ti ho appena mostrato per andare a verificare immediatamente che le caratteristiche hardware rispondano al cento per cento a quello che dovresti avere acquistato. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli e come si dice, cac, nessuno è fess. Ha capito? Effettivamente dopo la truffa dei pendrive e degli hard disk taroccati ci voleva anche quella dei processori. Ma a questo punto ho un favore personale da chiederti. Ed è quello di far circolare questa informazione più possibile tra conoscenti, amici, parenti e colleghi onde stroncare questo fenomeno sul nascere ed evitare che si vada a creare una vera e propria ondata di truffe ai danni di noi tutti. Ma veniamo ad argomenti decisamente più piacevoli e in particolare ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per Antonio Angelo Cofone, per Dugo Tech, per Lorenzo Paoletti, per Gioachino Ponziani e per Angelo Fenara che si sono abbonati al nostro canale e quindi è con piacere che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un ultimo ringraziamento è come sempre quello destinato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo, mi hai fatto compagnia e quindi non mi resta come di consueto che salutarti e darti appuntamento alla prossima.